buonasera buonasera tutti voi bentornati alla tg 2000 difendere la pace universalmente riconosciuta come uno dei valori più alti e promuovere ogni sforzo verso il disarmo nucleare in apertura il discorso di papa francesco al corpo diplomatico accreditato presso la santa sede occasione da tradizione e per uno sguardo a tutto campo sul mondo cristiana caricato francesco riceve gli ambasciatori dei 185 paesi che intrattengono relazioni diplomatiche con la santa sede approfitta degli anniversari un secolo dalla fine della prima guerra mondiale 70 dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo per richiamare la comunità internazionale il primo monito è che vincere non significa mai umiliare l'avversario stompito la pace non si costruisce come affermazione del potere del vincitore sul vinto la pace si consolida quando le nazioni possono confrontarsi in un clima di parità spiega il papa che riafferma la scelta per la diplomazia multilaterale l'impegno della santa sede per un'azione che abbia sempre al centro la dignità della persona umana e quanto ai diritti mette in guardia da quelli nuovi eredità del 68 che a volte non rispettano le tradizioni e la cultura di alcuni paesi di può essere quindi il rischio per certi versi paradossale che in nome degli stessi diritti umani si vengano ad instaurare moderne forme di colonizzazione ideologica dei più forti e dei più ricchi a danno dei più poveri e dei più deboli ma il vero problema per il pontefice resta la violazione di molti diritti primo fra tutti quello alla vita alla libertà e alla inviolabilità di ogni persona umana francesco cita i bambini scartati prima di nascere gli anziani ritenuti in peso le donne vittime di violenza e nuovi schiavi in tema di diritti richiama quello alla salute ma anche il lavoro per la pace il primato del negoziato e l'impegno per il disarmo nucleare che ha visto la santa sede tra i più forti sostenitori e poi l'appello per una soluzione della crisi coreana e di primaria importanza che si possa sostenere ogni tentativo di dialogo nella penisola coreana al fine di trovare nuove strade per superare le attuali contraposizioni a crescere la fiducia reciproca e assicurare un futuro di pace al popolo coreano e al mondo intero anche siria iraq iemen afghanistan nel cuore del papa insieme alla terra santa il venezuela e l'ucraina ma il capitolo più ampio ancora una volta è quello dedicato ai migranti oggi si parla molto di migranti e migrazioni talvolta solo per suscitare paure ancestrali occorre dunque uscire da una diffusa retorica sull'argomento e partire dalla considerazione essenziale che davanti a noi ci sono innanzitutto persone e nel discorso di papa francesco lo abbiamo sentito anche un appello a sostenere ogni tentativo di di dialogo nella penisola coreana e proprio domani torneranno a parlarsi dopo anni i rappresentanti delle due coree antonio soviero 10 del mattino domani è l'ora dell'inizio degli attesissimi colloqui tra le delegazioni delle due coree arrivano dopo due anni di gelo diplomatico a causa dei test nucleari del dittatore nordcoreano kim jong-un e il preoccupante scambio di minacce con donald trump il vertice si terrà all'interno della casa della pace queste baracche azzurre a palmung jong il villaggio diviso a metà dal confine nella zona demilitarizzata a rappresentare i due paesi i rispettivi responsabili per la riunificazione in cima all'agenda la partecipazione dei patinatori di pyongyang ryom taeok e kim yusik alle olimpiadi invernali dal 9 alla 25 febbraio a pyeongchang 180 km a est di seul ma i sudcoreani proveranno a far ripartire il dialogo intercoreano con la questione mai risolta delle famiglie da 65 anni divise dal filo spinato e poi c'è la madre delle questioni il nucleare del nord su questo nel messaggio di fine anno kim jong-un ha lanciato segnale di apertura verso seul il leader nordcoreano che oggi compie gli anni dovrebbe avere tra i 34 e i 36 anni vuole spezzare l'alleanza del sud con washington fino a due settimane fa un vertice tra le due coree era impensabile col nord che minacciava di bombardare il sud si è riusciti grazie all'insistenza di seul e alla diplomazia dello sport e a proposito di olimpiadi tra i tedofori l'onore è toccato anche a padre vincenzo bordo missionario degli oblati di maria immacolata molto stimato in corea del sud per il suo impegno da 27 anni a favore degli ultimi per molti italiani finite le vacanze è tempo di rientro alla riapertura delle scuole la sorpresa proprio il giorno dopo la pausa natalizia dello sciopero annunciato dai cobas per difendere gli insegnanti con il diploma magistrale sentiamo com'è andata da beatrice bossi primo giorno di scuola dell'anno primo sciopero per gli insegnanti con tanto di ammonimento dell'autorità garante che l'ha dichiarato illegittimo per mancato preavviso a scendere in piazza sono le maestre delle scuole primarie e dell'infanzia che dopo aver assaporato l'assunzione rischiano ora di tornare precarie attualmente abbiamo il contratto fino al 30 giugno dopodiché ritorniamo a casa e non si sa se verremo chiamati o meno l'anno prossimo significa che ritorniamo a fare le supplenti non abbiamo più gli incarichi hanno fatto una sentenza ingiusta che ci sbatte tutti a casa e che ci vuole sempre precari per pagarci meno il dito è puntato contro una sentenza del consiglio di stato che lo scorso dicembre ha escluso dalle graduatorie ed esaurimento gli insegnanti in possesso solo del diploma magistrale la questione è complessa e a radici nei primi anni 90 nel mezzo ci sono decreti ministeriali abilitazioni sempre nuove e migliaia di ricorsi al tar sono circa 6.000 gli insegnanti assunti con riserva che adesso rischiano di tornare a fare i supplenti sono soprattutto loro a scendere in piazza affiancati però anche dagli oltre 43.000 diplomati magistrali che con questa sentenza non avrebbero più accesso alla cattedra di ruolo docenti in piazza in tutta italia dove in centinaia hanno chiesto chiarimenti sul proprio futuro il ministro dell'istruzione valeria fedeli ha provato in vano a tranquillizzarli il ministero impegnato nella continuità didattica di questo anno scolastico e poi perché immediatamente dopo che l'avvocatura dello stato ci darà le risposte io convoche immediatamente il tavolo e troveremo le soluzioni donne e adesso le elezioni a meno di due mesi dall'appuntamento con le urne la politica si confronta con patti preelettorali e una gran quantità di promesse in questo scenario il presidente della lombardia maroni conferma rinuncio alla mia candidatura ma il resto a disposizione augusto cantelmi conferma di non ricandidarsi alla guida della regione lombardia ma non chiude la sua attività politica e si mette a disposizione del partito come annunciato roberto maroni dice addio al pirellone per motivi personali e indica nell'ex sindaco di varese il leghista tilio fontana il candidato a succedergli nelle elezioni del 4 marzo confermo che non mi ricandiderò alla guida della regione lombardia è una decisione che ho preso in piena autonomia per rimanere in tema una decisione personale che ho condiviso con segretario salvini e con silvio berlusconi tempo fa l'annuncio di maroni che diventa riserva del centrodestra da utilizzare nel momento opportuno arriva all'indomani dell'accordo di arcore tra berlusconi meloni e salvini meno vincoli europei controllo dell'immigrazione soprattutto cancellazione della legge fornero cavallo di battaglia del carroccio i punti centrali dell'intesa la prima legge che il governo salvini cancella e la legge fornero su questo non ho dubbio alcuno ma l'abolizione della legge fornero un provvedimento che potrebbe costare nei prossimi dieci anni circa 200 miliardi di euro trova la ferma opposizione del ministro dell'economia paduan che si dice pronto ad una candidatura penso che sarebbe un gravissimo errore la fila riforma parnero è uno dei pilastri del sistema pensionistico italiano la sostenibilità finanziaria del paese il naufragio dell'epifania in acqua internazionali a largo della libia si aggrava il bilancio delle vittime sarebbero almeno 64 i migranti che hanno perso la vita il gommone trasportava infatti 150 persone recuperati solo otto corpi massimiliano cochi indosso hanno le tute bianche o verdi dei soccorritori gli unici indumenti con i quali è stato possibile rivestirli sulle spalle una coperta per difendersi dal vento che spazza il porto di catania gli 86 superstiti del naufragio dell'epifania scendono dalla nave 18 della guardia costiera che gli ha soccorsi nelle acque del mediterraneo 40 miglia a nord di tripoli e questa volta non ci sono canti non ci sono grida di gioia è uno sbarco silenzioso i visi delle persone che stiamo incontrando sono dei visi provati perché probabilmente qualcuno non ce l'ha fatta e quindi siamo abituati di solito ai sorrisi perché sanno che nonostante tutto ce l'hanno fatta oggi sanno che nonostante tutto ce l'hanno fatta ma che hanno perso qualcuno in mare e questo ovviamente si vede sulla nave anche i corpi delle otto donne morte nel naufragio avevano tutte tra i 20 e 30 anni il racconto dei superstiti però ha confermato che il bilancio del naufragio è molto più pesante le vittime sono infatti 64 una strage su quel gommone che si è sgonfiato poche ore dopo la partenza dal porto di garabuglia d'est di tripoli c'erano 150 persone queste sono le immagini riprese dalla telecamera fissata sul caschetto di uno dei soccorritori tra i superstiti c'è una bambina di due anni che però ha perso la madre un bambino di tre anni era stato recuperato dall'acqua in fin di vita ma i soccorritori sono riusciti a rianimarlo sono loro i sopravvissuti più giovani di questo primo naufragio del 2018 ed è giallo sulle sorti dell'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad che secondo alcune fonti arabe sarebbe stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver incitato le proteste contro il governo il portale di informazione arabo rm news ha invece riportato le dichiarazioni dell'avvocato di Ahmadinejad il quale avrebbe smentito che sia in stato di fermo e sulle proteste dei manifestanti scesi in piazza contro il governo in iran a cavallo di capodanno non ci sono solo richieste economiche ma anche politiche culturali sociali di sicurezza ha dichiarato il presidente dell'iran Hassan Rouhani nel corso di un incontro a teheran con i responsabili dell'economia del paese ma cosa sta veramente accadendo nel paese fra le proteste antigovernative e contro manifestazioni pro governo fino al caso di Ahmadinejad Marco Borini lo ha chiesto al giornalista Alberto Negri le rivolte in irana che abbiamo visto in questi giorni sono state generate in gran parte da fattori interni il paese 80 milioni di abitanti il 50 per cento sono sotto i 30 anni i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro sono più di un milione ogni anno e oltre il 40 per cento sono disoccupati questi sono i dati di base che ci devono far pensare perché una parte della popolazione giovanile è scesa è scesa in piazza ma a differenza di altre rivolte questa volta non sono scesi nelle strade chi i riformisti coloro che in qualche modo rappresentavano anche quella media borghesia media alta borghesia di terra che aveva costituito il grosso per esempio della rivolta nel 2009 quando venne rieletto con dei brogli Ahmadinejad Ahmadinejad che tra l'altro l'ex presidente viene indicato come uno di quelli che hanno soffiato sul fuoco della rivolta e in dubbio che in Iran è in corso una come dire una sorta di resa dei conti fra le varie ali del regime e il presidente Rouhani è fortemente sotto pressione da parte dei pasdaran poi c'è un aspetto internazionale molto importante tra poche ore gli stati uniti decideranno che cosa fare se il presidente trump vorrà o meno abbandonare quell'accordo nucleare del 2015 che è stato accettato da tutta la comunità internazionale oppure sceglierà la via di imporre nuove sanzioni ma né in un caso né in un altro probabilmente inciderà davvero sulla situazione interna iraniana Nigeria tre delle sei suore sequestrate a novembre nello scorso anno sono state liberate lo ha riferito oggi il quotidiano Vangar citato dall'osservatore romano la madre superiore del convento del cuore eucaristico di cristo agata osare che ha confermato la liberazione stanno bene si trovano in ospedale per una visita i sequestratori avevano chiesto un riscatto di circa 54 mila dollari per il loro rilascio una somma che per la madre superiore non è mai stata pagata per la loro liberazione anche papa francesco aveva rivolto un appello pubblico torniamo ora in italia lavoro e famiglia boom di dimissioni per neomamme in 25 mila sono state costrette a licenziarsi dopo la nascita del figlio sotto accusa datori di lavoro e uno welfare che non è in grado di sostenerle come ci racconta Alessandra Camarca il difficile rientro al lavoro dopo la maternità tra problemi di gestione familiare e difficoltà economiche resta una prospettiva così irta di ostacoli da spingere tante neomamme a rinunciare per sempre ad una vita che concili vita familiare ed occupazione in italia le dimissioni volontarie per genitori con figli fino a tre anni d'età sono state 37 mila 738 e ad averle presentate sono soprattutto le lavoratrici secondo i dati forniti dall'ispettorato nazionale del lavoro le donne che si sono licenziate sono state 29.879 tra le mamme appena 5.261 sono i passaggi ad altra azienda mentre tutte le altre 24.600 hanno dichiarato di avere difficoltà di assistere il bambino per i costi elevati e mancanza di nidi dal sud al nord la situazione non cambia la lombardia in testa con un numero altissimo di dimissioni convalidate ben 8.850 tra le donne che sono state 6.767 quasi la metà si sono licenziate per l'impossibilità di conciliare lavoro e famiglia non va meglio in veneto seconda regione per numero di dimissioni 5.008 di cui 3.658 mamme e soltanto 1.350 papà terze in questa classifica infelice sono il lazio con 3.616 addi al lavoro e l'emilia romagna che ne registra 3.609 quasi a pari merito fanalino di coda è la calabria dove incide certamente la disoccupazione femminile per gli uomini la situazione è capovolta su 7.859 papà che hanno lasciato il lavoro 5.609 sono passaggi ad altre azienda per le donne dimissionarie speriamo che non pesino anche le dimissioni in bianco che costringono le lavoratrici a firmare al momento dell'assunzione il proprio licenziamento in caso di maternità infortunio o comportamento sgradito ci spostiamo in provincia di alessandria dove una intossicazione da monossido di carbonio ha sterminato una famiglia padre madre e figlio maggiorene sono morti a vignole borbera l'allarme è scattato nella pomeriggio ma il decesso potrebbe risalire alla scorsa notte all'origine della tragedia ci sarebbe il funzionamento di una caldaia metano all'interno della vecchia casa in cui si trovava la famiglia e adesso ci spostiamo invece in calabria in provincia di cosenza grave intimidazione al referente regionale di libera don ennio stamile un capretto appena sgozzato in una busta della spazzatura attaccata alla sua auto la scoperta mentre era a cena con i capi boy scout ai nostri microfoni la risposta del presidente di libera don luigi ciotti il servizio di luigi ferraiolo un capretto morto è l'avvertimento dell'andrangheta don ennio famile parroco molto impegnato in calabria contro l'illegalità mentre il sacerdote sabato sera cenava con un gruppo di scout in una pizzeria di cetraro piccolo centro in provincia di cosenza qualcuno attaccato allo specchietto retrovisore della sua auto un sacco della spazzatura con dentro la carcassa dell'animale sanguinolente l'omertà uccide la verità ma anche le speranze e quindi don ennio non deve sentirsi solo don ennio non si sente solo appartiene una grande rete che si chiama libera gli investigatori sono molto riservati don ennio avrebbe chiarito di non saper spiegare i motivi dell'intimidazione che molto probabilmente è legata al suo impegno antimafia nel territorio il sacerdote già in passato per le sue forti dichiarazioni antindrangheta e per l'attivismo nel recupero dei beni confiscati aveva subito delle minacce nel 2012 addirittura un maiale ucciso con un panno in bocca a indicare che il silenzio è d'oro don ennio è una persona che ha sempre un po disturbato per la sua coerenza il suo coraggio e il suo impegno già anni fa gli hanno fatto trovare una testa di maiale è un segno prettamente di intimidazione stavolta di capretto ma la sostanza non cambia numerosi in queste ore gli attestati di solidarietà ricevuti dal facerdote che è anche responsabile regionale di libera un'associazione contro le mafie fondata da don luigi sciotti la resistenza e l'impegno di don ennio ci dà la sponda per ricordarvi che le buone notizie esistono torna il nostro settimanale di belle storie buone pratiche con cesare cavoni buone notizie tra poco alle 19 30 qui su tv 2000 e attenzione adesso a pubblicare le foto dei figli su internet in particolare sui social network immagini e informazioni personali su un minore vanno cancellati lo ha deciso il giudice della prima sezione della tribunale civile di roma chi non lo farà può incorrere in una multa ci spiega che cosa è successo come comportarci leonardo possati una sentenza che farà storia i giudici del tribunale di roma hanno stabilito che quei genitori che pubblicano le fotografie dei figli minorenni sui social network commettono un illecito e possono essere puniti con l'obbligo di rimozione delle immagini ma anche col pagamento di una somma di denaro in favore dei figli in realtà la sentenza pronunciata due settimane fa ha condannato una madre che non solo aveva postato le foto del figlio sedicenne ma le aveva accompagnate con commenti sulla vita familiare raccontando liti discussioni problematiche di ogni tipo financo le controverse giudiziarie con suo marito e il racconto di aspetti molto personali dell'esistenza del figlio al punto che il ragazzo ha chiesto al giudice di poter proseguire i suoi studi negli stati uniti per rifarsi una vita per questo la donna è stata condannata a pagare 10.000 euro al figlio e al marito qualora non ottemperasse all'obbligo di rimozione di foto e commenti un precedente unico in italia fino ad oggi più volte i giudici avevano sanzionato genitori costringendoli a disattivare i profili facebook aperti a nome dei figli o a rimuovere nelle fotografie pubblicate sulle proprie pagine social ma in tutti i casi si trattava di aver postato foto dei minori il principio giuridico alla base dei divieti e degli ordini di rimozione è semplice i genitori hanno il dovere di cura e di educazione dei figli e quindi anche di una corretta gestione dell'immagine pubblica del minore se i genitori disattendono questi doveri può intervenire il giudice con sentenze che negli ultimi anni si sono mosse tutte nella stessa direzione quella di tutelare i minori dai rischi di una sovraesposizione sui social spesso la questione legata alla visibilità dei figli divide i genitori soprattutto in fase di crisi familiare in numerose cause di divorzio le coppie devono accordarsi sul divieto per i genitori non solo di pubblicare le foto dei figli minori su blog e social ma anche di usarne le immagini per il profilo di whatsapp ed ora in vaticano è ripresa questa mattina dopo la pausa natalizia la messa mattutina a casa santa marta il disprezzo per il più debole e opera di satana ha ammonito il papa che ricordando un episodio personale ha sottolineato come anche in alcuni bambini possa esservi malvagità paolo fucili a volte anche nei bambini c'è tanta malvagità detto da un uomo assai tenero in genere con loro certo fa riflettere francesco però ne è convinto se no perché chiede oggi da santa marta fanno i bugli a scuola ad esempio perché tu sei grasso perché tu sei così o tu sei straniero o perché tu sei nero per questo ma aggredire aggredire i bambini ragazzi lo spunto è la storia biblica delle due mogli di el cana di cui una con figli si faceva beffe della sterilità dell'altra si capisce che uno se la prenda con uno che è più forte se invidia può essere che ti porta ma è più debole poi chissà gli psicologi qualche spiegazione ce l'hanno quella del papa invece è semplice è opera di satana se quando facciamo un'opera buona diciamo che è lo spirito santo che ci ispira allora non dubitiamo neppure del diavolo ragiona bergoglio questo è opera di diavolo aggredire il debole lui non ha compassione infatti quella è una grazia chiediamola a dio esorta e conclude francesco ci spostiamo a valogno nel casertano paesino quasi fantasma spopolato per la fuga dei giovani oggi il paese ingrigito è diventato a colori grazie ai murales di alcuni artisti internazionali che hanno donato una nuova vita al borgo questa trasformazione è il tg post di questa sera a seguire sport 2000 stasera ospite uno dei più grandi campioni dello sport italiano con giampiero spirito il tre volte campione olimpico claus di biasi tg 2000 torna se vorrete più tardi alle ore 20 e 30 ed ora ci immergiamo nei colori del borgo di valogno ci vediamo più tardi grazie a tutti